Questa è veramente, si è fatto storia, è la prima partita che abbiamo vinto davanti alla verità di pace, con mia famiglia, con mia moglie, con mio figlio, sono contento con i ragazzi e i nostri tibosi. Abbiamo messo, abbiamo giocato con 10, c'è stato coraggio, grinta, hanno giocato il partito, credevo, credevo, sai come sono le cose, dopo che siamo stati in dieci, credevo un'altra beffata. Ha avuto paura? Sì, sì, ma è successo, ora guardiamo giorno in giorno e c'è un altro partito che ci ha spettato domenica. Sente Presidente, però questa è una bella boccata d'ossigeno. Sì, per tutti, ma pure per i di forse, no? Per esempio di forse. La squadra si presenta un grande, dopo tutti i ragazzi che non possono giocare, no? Si sono fatte male o disqualificati. Ora andiamo amanti con, come si dice, con lo spirito giusto, ma with more incentive, you know, the better things it's going to come. Meglie cose avverranno, ok? Perché abbiamo due giocatori importantissimi, forse, forse, uno di questi quasi sicuro, no? Che giocheranno domenica, forse l'Italiciela sta bene per giocare domenica, spero. Ecco, l'aveva detto sabato, questi ragazzi hanno già giocato bene sabato, quindi, insomma, la conferma in questo gruppo c'è? Sì, no? La conferma, gli allenatori, la squadra, siamo tutti insieme. Si soffre e si gioisce insieme, come una contiglia, no? Quando... C'è da fare punti in campionato, ora più no? Sono da fare punti in campionato. Questo è sicuro, no? Ma io ho detto, guarda, io ho detto che ci manca una partita. Noi vincevamo, quando non vedrò, no? 8, 9 a sinistra, no? Invece siamo adesso e dobbiamo riconquistare la sinistra. Ma, stando alla scuola, tu hai avuto modo di complimentarsi già con i ragazzi che non le viste? Con tutti, con tutti. Ho messo, con tutti i ragazzi. Mi dispiace per Sottir. Non mi credo di perché ho parlato con Sottir, bravissimo ragazzo, eh? Ma la reazione, però, un po' sagerata, per un giocatore, no? Si è arrabbiato molto Sottir quando è uscito. No, 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 lui è tutto ok, ho parlato con il mister, è un bravissimo ragazzo, eh? Ci voglio bene, come ci voglio bene tutti gli altri. Tutti hanno fatto una bellissima partita, non voglio differenziare, ok? Perché hanno giocato come una squadra. Incluso il nostro nuovo portiere, ha fatto benissimo. Presidente, stiamo entrando nel periodo natalizio, se la senti di promettere qualche regalo già ai tifosi della frentina per il mercato che inizierà dopo Natale? E parliamo dopo, ok? No. Dedica Presidente, dedica per la prima vittoria al Franchi? A tutti i tifosi, ok? A tutti i tifosi che sono sempre vicini alla squadra e per loro giocano, ok? Presidente, perché ieri è stato di ufficio in visita, ha portato bene una visita di Firenze? No, guarda, forse la porteremo ogni giorno, eh? Grazie. Grazie.